come ti chiami carter? come hai fatto a sudare? bravissimo tutto pronto per questo campionato su automobilista 2 spero che possiate seguirmi e che gradiate questo format in questo ritorno finalmente alla simulazione devo dire che automobilista 2 mi sta veramente sorprendendo vi ho messo sulla sinistra i miei piedini sui pedali al centro la dashboard, la di performante e a destra il mio faccione, faccione, ciao ragazzi quindi abbiamo un po' di pratica, anzi di qualifica e poi andiamo giù con questa Nissan GTR per questo campionato GT3 qui a Tonnington Park prima gara su 6 se non sbaglio cerchiamo di fare un tempo e poi andiamo in gara a infinita sta macchina raga un po' di concentrazione ovviamente che è fantastico sto simulatore raga l'hanno migliorato tantissimo rimanete sintonizzati ragazzi perché tra poco c'è una sorpresina che era da tanto ve lo dico, mi anticipo, era da tanto che non facevo ste cose tra poco 31 e mamma mia vediamo di guadagnare qualche cosina sapendo che ho fatto un sacco di errori andiamo io dovrei guadagnare se la prendo bene un secondo 29.8 e dai gli anticipiamo mamma mia come stava partendo un secondo e uno Mauricio vediamo se siamo bravi ah quanto abbiamo perso attima per 6 4 decimi ripaghiamo terza posizione ragazzi attenzione pronti ragazzi vai non morire bella partenza tranquillo abbiamo fatto il vuoto dietro faccio guarda come taglia il traction incredibile ragazzi devo attaccare 6 minuti a Grazie a tutti. Dai! Guardalo! Eeeh, però sono uscito forte, ma sta scappando lì davanti. Proviamo di terza. Sono uscito bene, ragazzi, sono uscito bene. Pago io dopo! Dai, un po' di scia, me la dovrebbe dare. Guarda come sta a largo, eh! Avete visto i due colpettini di freno? Quello vuol dire sto per frenare! Perché ero molto vicino. Uh, la stavo perdendo. Va bene. Tutto da rifare. Calmo. Ragazzi, non uccidi bene. Dai, 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 dai! Oh, non lascia niente, oh! Eeeh, con presunzione! Guardalo! E' uscito forte. Ha rinunciato! Perché? Errore mio! Mi manca un giro, praticamente. Se esco bene dalla chicanna. Dai! Dai, chiodi, 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 chiodi! Sì, dai! Largo. Terzo posto, ragazzi! Partito terzo. Arrivato terzo. Eeeh, bravo, bravo, bravo! Come ti chiami, Carter? Come hai fatto a sudare? Bravissimo! Ragazzi, ci vediamo per gara 2! Grazie per avermi seguito! Fatemi sapere se questo format vi piace! Automobilista, ragazzi, è qualcosa di veramente splendido! Lasciate un commento! Iscrivetevi al canale! Ci vediamo alla prossima! Da Fabrice è tutto! Ciao!